Per quanto riguarda il modulo, credo che dopo questo periodo che ha affrontato la squadra sta a fare tanti cambiamenti, non è proprio il caso, penso che sia il primo errore che potrei commentare. Il modulo decide sempre le caratteristiche dei propri tiratori, comunque a disposizione. Io, Donato, in sera l'ho avuto, ho allenato, è chiaro che adesso si avrà commesso qualche errore e bisogna andare a vedere se sono errori singoli, poi di debattere, tutto è migliorabile, credo che comunque sia un buon terzino perché tutte le volte che ho chiamato il caso in Serie B si è sempre fatto un buon terzino. E quindi c'è una conoscenza di giocatori che è anche importante. Romeo?